Allora, se le previsioni sono confermate, in questi giorni avremo un'ondata di freddo anomalo. Si tratta di aria molto fredda che raggiungerà Monte di Procida verosimilmente tra giovedì sera e venerdì mattina e poi resterà a farci compagnia per almeno due o tre giorni. Quindi la raccomandazione che ho fatto insieme all'ufficio o al servizio idrico comunale è quella di fare massima attenzione ai contatori e alle tubature. Se vi sono contatori esposti, il contatore deve essere nell'apposito contenitore, ma se sono particolarmente esposti è bene coprirli con materiali isolanti, con qualche straccio vecchio. Si può utilizzare anche, però ovviamente vi invito poi dopo alla massima pulizia e allo smaltimento secondo quelle che sono le regole della raccolta differenziata. Si può utilizzare anche del polisterolo. Ho visto alcuni comuni hanno consigliato anche l'utilizzo del polisterolo. Io non l'ho fatto nel comunicato ufficiale per evitare, perché questo materiale è altamente inquinante e spesso viene disperso poi nel territorio. Però diciamo in alcuni casi, se ritenete opportuno, si potrebbe usarlo con le dovute precauzioni. Mi raccomando, facciamo massima attenzione, perché effettivamente noi poi cercheremo di aggiornarvi, perché effettivamente può essere pericoloso. Quello che è successo già all'incirca quattro anni fa, il 2012, il Comune non era pronto, era impreparato, ma alle nostre latitudini siamo impreparati a questi eventi, quindi si rupperò diverse dubbature, il Comune fu costretto agli straordinari. Noi già ci stiamo organizzando con una squadra di pronto intervento, però è bene che ognuno faccia la sua parte, quindi ripeto, massima attenzione. Ovviamente segnaliamo alla Polizia Municipale, al Comune, tutti i problemi che possono esserci, però se ognuno recita la propria parte potremmo farci trovare pronti. Il Comune farà la sua parte, perché già ci stiamo adoperando per mettere in piedi tutta una struttura organizzativa. Chiederò anche alla Protezione Civile Locale di vigilare, di perlustrare il territorio e verificare la presenza di anomalie, rotture, guasti e quindi diciamo noi ci faremo trovare pronti. Recitiamo anche tutti insieme ognuno per quanto di competenza la propria parte e sicuramente non avremo danni. Grazie a tutti.